La Nazione vuole proporre una legge per far andare via di casa i giovani a 18 anni Invece di pensare a dare un lavoro e permettere di vivere in maniera tranquilla Sti buffoni ci prendono anche per il culo, sono senza dignità A Brunetta bisognerebbe dirgli che se ci fosse lavoro magari tanti giovani andrebbero via di casa Invece di stare in casa con i genitori Questo bisognerebbe dire al signor Brunetta Ehi Pino, lo sai che George Bush dice di mandare soldi ad Haiti? Che ci pensa lui? Inizia a mandare quelli che ha rubato facendo collassare il mondo Ciao Dico Santo Hai ragione, hai ragione, sono d'accordo con te In tutto il mondo, ragazzi io l'ho sempre detto Che se noi andiamo nelle istituzioni, dalle più piccole alle più grosse in tutto il mondo La metà, insomma, sono tutti da mettere in galera Tutti che rubano Tutti che rubano Gente che usa il loro potere per fottersi le donne Per dargli un lavoro e per farle andare in televisione Donne senza dignità Hai capito? La televisione che brunica di zoccole proprio Gente senza dignità da anni proprio Gente che dovrebbe solo vergognarsi Sono lì in televisione a fare un cazzo da tutta la vita Senza dire niente Hai capito? Ha fatto bene la Canalys che ha capito che non è capace di fare un cazzo Si è trovato George Clooney e se ne è andato fuori dai coglioni Ciao Pino Sono Simone D'Aitri Volevo chiederti A te piacciono i CCCP? Grande Ferretti secondo me è veramente un genio Un pazzo lo adoro Io adoro la follia Ferretti è veramente un grande Maroccolo Un genio Gente che è sempre stata al di fuori della merda in questo paese Come Franco Come Battiato Gente che è sempre fatta dalla grande arte Caro Pino Sei sempre un grande Mi piace quello che pensi Vorrei sapere Cosa ne pensi appunto Di Rino Gaetano Io lo ascolto da poco E me ne sono innamorato proprio Ho trovato in lui Quella purezza Quella sincerità nel raccontare Nei suoi pezzi Quell'Italia